Dal Vangelo secondo Giovanni Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo. Ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce, e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Buona domenica cari amici, buona domenica di Quaresima, questa quarta domenica che ci fa fare un altro bellissimo passo in avanti, in questo cammino che ci viene offerto, in questa possibilità che abbiamo tra le mani. Mi piaceva questa immagine di sfondo, questo albero che svetta verso il cielo. Mi sembra che raccolga bene quello che questa pagina del Vangelo ci invita a vivere. essere uomini e donne con i piedi ben piantati per terra, ma con le radici intrecciate con il terreno della vita, e nello stesso tempo con questi rami che cercano il cielo, con questi rami che cercano la luce. Nel nostro brano del Vangelo a più riprese, ritorna quell'espressione, chi crede nel figlio di Dio, chi crede nel figlio dell'uomo, trova la vita eterna. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora appunto crederete in lui, troverete la vita. Proviamo a lasciarci prendere per mano, noi uomini e donne di questi tempi, noi uomini e donne di questo tempo, in cui percepiamo tutti la fatica di queste restrizioni, la fatica di questo tempo, in cui però abbiamo sempre tra le mani la nostra vita, con le sue esperienze fondamentali. E lì è a quelle esperienze fondamentali della nostra vita che vuole parlare il nostro Vangelo, a cui offre una speranza, offre la salvezza, la nostra pagina del Vangelo, la vita di Gesù. Dunque, come mai questa insistenza sul credere, e sul credere nel figlio unigenito, in questa pagina che ci viene regalata? Proviamo a soffermarci su queste espressioni. Innanzitutto, il figlio dell'uomo, il figlio di Dio. Ma chi è? È Gesù, ovviamente. È Gesù e la sua vita, è Gesù e la sua storia. Gesù che, insistentemente, in questa pagina, ma poi in generale, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, che ci sta facendo da guida, insiste tantissimo sul fatto che ciò che fa la differenza nella vita di Gesù è il suo continuo ricercare, il suo continuo riferirsi a Dio, a quella sorgente della giustizia, a quella sorgente della verità della propria vita. Sono incessanti, sono innumerevoli le volte che nel Vangelo di Giovanni Gesù dice di sé, quando descrive la propria vita, la descrive come colui che sta in quel rapporto con Dio. Io dico le cose che ho sentito dire, io faccio le cose che ho visto fare. Sono tutte espressioni che rimandano a questo riferimento fondamentale per la vita di Gesù. Ovviamente è un riferimento che poi trova nella vita di Gesù il volto. Possiamo, guardando a ciò che Gesù fa, a ciò che Gesù dice, ecco, vediamo il volto di Dio. Ma che cos'è che fa? Che cos'è che dice Gesù? Ecco, Gesù vive ciò che abbiamo tra le mani noi tutti i giorni, il nascere, il vivere, l'intrecciare delle relazioni, vivere di queste relazioni, quelle di amicizia, quelle più precise che connotano la nostra vita, il fare parte di questo mondo, di questa società civile, quindi l'aspetto politico, con tutte le decisioni che ci permettono di vivere in modo umano, tutto il modo che abbiamo di vivere il rapporto con gli altri, l'aspetto più economico, e poi quella sfera ampissima, ahimè, che ci tocca con forza, che è quella della sofferenza, della colpa, della fatica. Ecco, Gesù, con il suo continuo riferimento a Dio, al Padre, da Lui quotidianamente cercato, ecco, Gesù vuole offrire alla nostra vita, questo essere il figlio di Dio, la parola vera, la parola giusta, non ce la offre dall'alto, nel senso, mi è stata regalata questa cosa qui e non faccio che tradurtela per te, no, è qualcosa che sorge dalla sua stessa esistenza, dalla sua stessa vita, nel continuo riferimento con Dio, in quel continuo legame che Lui rinsalda quotidianamente, si fa portatore di una sapienza bellissima, di una sapienza a proposito del nostro modo di essere umani, a proposito del nostro stare nel mondo. Il nome di Dio è, per Gesù, la vera roccia, il presidio per continuare ad essere umani. Il punto di vista che Gli viene offerto da quel rapporto con Dio è ciò che ci regala, poi, nella sua vita quotidiana. Ecco l'invito, allora, chi crede in Lui ha la vita eterna. Ecco l'insistenza. L'insistenza che ci viene offerta in questo brano del Vangelo e poi in generale in tutto il Vangelo è proprio questa. In quella decisione che tu puoi fare nel vivere responsabilmente la tua vita, ecco, quella decisione credente, quella decisione che ti porta a fidarti di quello che vedi in quell'uomo, in Gesù di Nazareth, puoi ritrovare la vita, puoi ritrovare ciò che ti permette di vivere, usiamo l'espressione del Vangelo, una vita eterna, ovvero una vita che resiste, che resiste all'usura del tempo, che resiste laddove pur diventa faticoso ogni tanto vivere, qualche giorno si fa pesante o diversi giorni si fanno pesanti. Ecco, il senso di quella bellissima espressione Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Una possibilità per la nostra vita, una possibilità per ogni uomo. Lasciamo che questa espressione scenda nella nostra vita. Chi crede in Lui ha la vita eterna. E notiamo, quando parliamo di credere in Lui, non stiamo dando a questa espressione immediatamente una connotazione confessionale. Credere è quella qualità fondamentale, è quella qualità originaria, e ciò che ci permette di vivere le relazioni più significative, i momenti più significativi della nostra esistenza. Attivando quella decisione, attivando quella forma di vita, che è quella credente, abbiamo la possibilità di stare al mondo, di stare al mondo resistendo all'usura del tempo. Questo è il regalo che ci viene fatto dalla pagina del Vangelo di quest'oggi. Ritagliamoci un attimo, un po' di tempo, per ritrovare quella serenità, per ritrovare in serenità quella possibilità che ci viene offerta dal Vangelo. proviamo come questo albero che fa da sfondo a queste parole, a trovarci uno spazio, uno spazio dove poter, nel silenzio, nella tranquillità, affondare le nostre radici nella vita di Gesù Cristo, affondarle nella nostra esperienza, per innalzare la nostra vita verso il cielo, per innalzare la nostra vita come nell'azzurro di questo cielo in cui respira questo albero. Buona domenica, buona domenica di quaresima. Grazie a tutti i nostri spazio, alleluia, alleluia.